Tudor Black Bay GMT, l'orologio da pulso perfetto per i viaggiatori globali. Se sei un viaggiatore globale, che ama scoprire nuovi luoghi e culture, hai bisogno di un orologio da pulso che ti accompagni in ogni avventura, che ti aiuti a tenere il passo con i fusi orari e che ti faccia sentire sempre elegante e raffinato. Il Black Bay GMT è il modello che fa per te. Questo orologio, prodotto dalla casa svizzera Tudor, rappresenta un connubio armonioso tra l'eleganza classica e le funzionalità moderne. Lanciato nel 2022, è ispirato agli orologi da immersione degli anni 50 e 60. La sua lunetta bidirezionale graduata 24 ore permette di visualizzare facilmente un secondo fuso orario, oltre a quello locale. Questa funzione viene indicata anche tramite una quarta lancetta di colore rosso, denominata lancetta GMT, che si muove più lentamente rispetto alle altre completando un giro in 24 ore. La lunetta disponibile di diverse colorazioni, tra cui quelle bicolore per l'indicazione della notte e del giorno. E può essere ruotata in entrambe le direzioni per impostare il fuso orario desiderato. Ma non è solo la complicazione GMT a emergere da questo orologio. La data posta a ore 3, anche se visualizzata da una ridotta finestrella, offre a questo orologio funzionalità e stile. La data, infatti, si sincronizza con il fuso orario locale e cambia giorno automaticamente. La data, inoltre, si integra perfettamente con il quadrante, che presenta un aspetto pulito e armonioso. Il quadrante, disponibile in diverse colorazioni, che vanno in contrasto con gli indici a bicchiere e le lancette snowflake per una maggiore visibilità. Questi elementi, infatti, sono riempiti con della sostanza luminescente bianca. Questa si illumina di verde o di blu al buio, a seconda della versione. L'unica colorazione di quadrante a differenziarsi è quella bianca, che in questo caso ha indici e lancette dello stesso colore, creando un effetto di eleganza e sobrietà. Il Black Bay GMT è disponibile con svariati tipi di cinturino. Quello in acciaio inossidabile presenta una chiusura piedevole e una fibbia di sicurezza. Quello in pelle presenta una fibbia d'ardiglione. Mentre quello in tessuto nero presenta una striscia centrale che richiama il colore della cassa. Tutti i cinturini sono comodi e versatili, e si adattano perfettamente al polso di chi lo indossa. Il Black Bay GMT è dotato di un movimento automatico calibro MT5652, sviluppato internamente da Tudor. Questo movimento ad alte prestazioni offre una precisione impeccabile e una riserva di carica di circa 70 ore, garantendo che l'orologio rimanga operativo anche dopo lunghi periodi di inattività. La funzione di regolazione rapida del fuso orario consente di cambiare agevolmente il secondo fuso orario senza dover toccare la lancetta principale. Grazie. Grazie.